Vivere la fede Vivere la fede, in definitiva, è scegliere da che parte stare. Per noi che tentiamo di credere, scegliere significa accogliere Gesù e il suo Vangelo dentro la nostra vita, dentro la nostra storia. Ma la fede è libertà. Non possiamo obbligare nessuno a credere. E come siamo liberi noi di accogliere, così sono liberi gli altri di rifiutare il Vangelo. Gesù diventa luogo di divisione, luogo di scelta. Auguriamoci non tanto di scontrarci con gli altri, ma di dare ragione della fede che c'è in noi.